Allora, sei pronta a cucinare? Spiegami come si fa cucina Allora, timido guardo il ramsey, eh? Ma non ti separare che dicono che se si separano i gemelli si ammessi poi mi c'è male, eh? Tranquillo, che tanto sei morto a Giornalini? Va bene, allora, prendi la padana, prendi, dammi la mano Fai la mano per coltana, tieni il cetriolo Tempulcita, tagliato il cetriolo No, non ho capito Allora, rifai la scena Prendo la padana, metto il cetriolo Tag 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 E poi però? Ma vedi che sei andato proprio dall'inizio, sicuramente Vabbè, allora, rifacciamo Facciamo una ricetta che conosco Un po' di uova e te la sbatto in testa Ah, per formare le ultime da su Ok, allora Adesso pure piramolo che ci mangiare Andiamo avanti Dove? Non vedi? Intanto, porco Allora Allora Uovo Bacon Poi sale Prendi il sale Mettilo Come fai in bagno Così Ora Accendi il fornello Sì, dall'altra parte se non spegni il gas Ok E ora Spatti la padella Qui non so più come aiutarti E allargati a prendere condimenti dal frigo Vai Prendi il fornello Prendi il fornello Prendi il fornello